Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Sdimmi Gamer Oggi facciamo un po' di spacchettamenti di Clash Royale che ci hanno un sacco di bauli da aprire Iniziamo col baule omaggio Ok, oro per 52 scheletrini come sempre una carta epica ci hanno dato lo scatolo gigante che possiamo addirittura migliorare ce ne abbiamo due e basta poi un altro omaggio 53 di oro 2 gemme bombarolo che non manca mai goblin lanceri e basta andiamo avanti con il baule d'argento 44 di oro 6 sgherri una sfera infocata e scatolo poi 41 di oro un bombarolo spiritelli del fuoco e basta ok, oro 44 un altro razzo un altro razzo migliorabile ok, adesso apriamo anche il baule d'oro che ci da 115 di oro spiriti del fuoco frecce la la torre tesla moschettiere e basta cioè alla fine era meglio il baule omaggio che quello d'oro ma sono dettagli quindi andiamo intanto a vedere il nostro queste cose migliorali ci abbiamo uno scherzo gigante migliorale miglioriamo subito ok e adesso e adesso andiamo a fare una battaglia vediamo un po' se la perdiamo una due vediamo se la vinco ne faccio una sola così almeno sto con un video con una vittoria seria vai vediamo un po' che ci tocca allora buona fortuna grazie buona fortuna anche a te sei un livello 6 e sei un giapponese cinese ma io devo difendere sei di qua che è di là adesso questo qua si è buono la maggior difesa l'ho data di là dai 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 eh la parola è vive andiamo fuori il vero si che buonino i moschettiari li abbiamo ucciso subito perchè non è male che ridi? che te ridi te oh nooo si può rimanere così speriamo che fa lui così andiamo a difesa prima di attaccare speriamo che vada di qua perfetto noi ci mettiamo questo 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 e la strega è un po' bravo 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 vai che ci buttiamo anche il bombarolo attenzione attenzione strega perché se te la fai scoppiare lì vai scappa un po' strega non scappa la strega però è viva grande strega di livello 3 ok ragazzi buttatevi raggiù ciao ok una torre le abbiamo fatta fuori non piangere non piangere ok andiamo su con la strega vai dai 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 e no e no e no bombarolo e anche poi il bombarolo vi butta giù a voi vai io vorrei vincere con un pochino più di torre e non con una torre sola buttate giù se ce la faccia vincere ovviamente eh lui sta sta attaccando di brutta maniera perché noi dovremmo attaccare di brutta maniera per vedere se magari ce la facciamo lo butto sotto lì dai abbiamo vinto abbiamo vinto così abbiamo vinto con una sola polona ma abbiamo vinto allora avevo detto che se vincevo smettevo quindi basta oggi ci facciamo una partita sola però vinta e che è tanta roba no? funziona così? va bene ragazzi io vi saluto se il video vi è piaciuto lasciate un bel like che è il video vi è piaciuto ci vediamo ciao 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 ciao